Sto cominciando a conoscere le persone, a imparare, perché come ho già detto questo non è il mio lavoro di provenienza, ma sono sicura di poter dare un apporto proprio per la mia competenza professionale a questo ente. E poi l'entusiasmo del Presidente è trascinante, quindi spero che si possa lavorare bene insieme. Qual è la visione della Regione Abruzzo che lei ha in questo momento preso atto di tutti quelli che sono, le carte, i numeri? Mi sembra che sia in atto un processo di riorganizzazione importante dove viene data molta attenzione alle singole persone che si mettono a capo dei servizi e dei dipartimenti. Ci sono scelte molto attente, quindi credo che l'elemento umano poi sia fondamentale. È una fase di riorganizzazione, quindi è bene che si ricominci un po' tutti da zero.